Barzellette battute e freddure, giorno 29 dicembre. Un carabiniere va al bagno, tutte le volte che va al bagno si mette un giubbotto antiproiettile. Al che la moglie, incuriosita, dopo un po' di volte che vede che il marito va al bagno appunto con questo giubbotto, mi chiede, ma caro, perché vai sempre al bagno con il giubbotto antiproiettile? Perché il comandante mi ha detto che prima o poi qualche strozzo mi sparerà. Bene, questa è veramente pessima, ciao ragazzi!